Buongiorno a tutti e a tutte, buon lunedì 18 marzo, buon inizio di settimana, la settimana che precede quella che viene definita la settimana santa, nella quale entriamo nell'ambito del mistero della cristianità. Con Giovanni oggi approfondiamo quale capitolo della Laudato sì. Il capitolo Una comunione universale, un richiamo a una visione ecologica universalistica ma anche capace di cogliere la specificità immagino di ogni creatura. Vediamo dunque, ascoltiamo questa lettura facendo qualche commento. Vai Giovanni. Vabbè. Le creature di questo mondo non possono essere considerate un bene senza proprietario. Sono tu, sono tu e signore, amante della vita. E qui c'è una definizione di una proprietà unica. La proprietà mia, il mio orticello o addirittura i despoti di ogni tempo quando invadono le terre altrui, questa è mia perché ne ho pieno diritto perché sono più forte di te. No, qui c'è un unico padrone. Un padrone che ci trascende però. No, noi apparteniamo a questa proprietà. Non siamo proprietari di questa proprietà. Siamo semplicemente appartenenti. ma facciamo fatica a immaginarci nella dimensione non del possesso ma dell'appartenere. Facciamo fatica ad appartenerci e facciamo fatica ultimamente, mi sembra. Essere parte di, non essere proprietari di. No, essere una parte. sì. E facciamo fatica a comprendere che se un padrone c'è è qualcosa di molto al di sopra di noi. Sì. È immaginabile, quasi, potremmo dire. Voglio soffermarmi per un discorso a favore di chi si definisca ateo, però perché ho la sensazione che la religione venga presa troppo come una cosa per bigotti, soprattutto tra i giovani. E posso capire perché c'è tanta gente che con la scusa della religione ha fatto cose brutte, c'è tanta gente che va in chiesa tutte le domeniche, ma non si possono definire le prove persone per questo. Tanta gente che interpreta i testi sacri un po' come gli fa comodo a lei in quel momento là. Questo testo, l'ho detto sì, è estremamente religioso, è fatto dal Papa in persona, ma secondo me anche il più convinto degli atei può imparare molto da esso. Tu dici, prendi posizione affinché anche chi si dichiara ateo ascolti queste parole senza pregiudizio. Sì. Chi si dichiara credente le ascolti come un monito, non una conferma del loro stile di vita, che molto spesso è antitetico rispetto alle parole contenute nell'enciclica. Sì, perché puoi dirmi che non credi nella parte sono tu e signore, delle creature viventi, ma non puoi credere che siano dell'uomo. Sì. Guarda chi siamo, quella cosa facciamo tutti i giorni, non siamo degni di essere padroni di nulla, specialmente non della natura. Questo induce alla convinzione che, essendo stati creati dallo stesso Padre, noi tutti esseri dell'universo siamo uniti da legami invisibili e formiamo una sorta di famiglia universale, una comunione sublime che ci spinge ad un rispetto sacro, amorevole e umile. Voglio ricordare che Dio ci ha unito tanto strettamente al mondo che ci circonda che la desertificazione del suolo è come una malattia per ciascuno e possiamo lamentare l'estinzione di una specie come fosse una mutilazione. Questo richiede ovviamente, come sottolinea Papa Francesco, la coscienza piena di una appartenenza universale, una mutilazione che anche se riguarda una specie diversa dalla nostra, rende meno ricca alla nostra specie. Perché avviene una mutilazione dell'armonia universale. Questo non significa equipare tutti gli esseri viventi e togliere all'essere umano quel valore peculiare che implica allo stesso tempo una tremenda responsabilità. E nemmeno comporta una divinazione della Terra che ci priverebbe della chiamata a collaborare con essa e proteggere la sua fragilità. Queste concezioni finirebbero per creare nuovi squilibri nel tentativo di fuggire dalla realtà che ci interpella. Tiene un invito al realismo, sostanzialmente quello che formula Papa Francesco, tenendo presente che noi siamo parte di questo pianeta, ma abbiamo una responsabilità particolare in quanto specie particolarmente evoluta, ma per questa stessa ragione particolarmente responsabile di ciò che accade. Non è un privilegio, è una responsabilità. Sì, è anche un privilegio potremmo dire, perché ovviamente si può dire che viviamo meglio di molti animali che devono combattere ogni giorno a procurarsi da mangiare, ma appunto con un privilegio così grande la responsabilità è immensa. Bene, proseguiamo. Mi pare giusta questa tua osservazione. Il grande privilegio della responsabilità. Si avverte a volte l'ossessione di negare alla persona umana qualsiasi preminenza e si porta avanti una lotta per le altre specie che non mettiamo in atto per difendere la pari dignità tra gli esseri umani. Certamente ci deve preoccupare che gli altri esseri diventi non siano trattati in modo irresponsabile, ma ci dovrebbero indignare soprattutto le enormi disuguaglianze che esistono tra di noi, perché continuiamo a tollerare che alcuni si considerino più degni degli altri. Non ci accorgiamo più che alcuni si trascinano in una miseria degradante, senza reali possibilità di miglioramento, mentre altri non sanno nemmeno che farsene di ciò che possiedono, ostentando con vanità una pretesa superiorità e lasciando dietro di sé un livello di spreco tale che sarebbe impossibile generalizzarlo senza distruggere il pianeta. C'è un invito a porre molta attenzione a quella ricchezza sovrabbondante che genera spreco e dissesto ambientale. Sì, genera un spreco infinito, intollerabile, che viene giustificato dicendo che quella persona lì fa cose buone a producere quello spreco, oppure si merita quelle possibilità che ha e che molti di noi non avranno mai per il semplice fatto di essere ricco. Perché se sei ricco... I meritocratici predatori. Sì. Inutile dire che sono... Inutile dire. No, non è vero. Soprattutto non è inutile dirlo. Bisogna ricordarsi sempre che non è così, che sono bugie belle e buone. Sono storie che vengono raccontate ai meno fortunati, quali tutti noi siamo, la grandissima maggioranza di noi siamo, per rinluderci anche, per farci pensare, farci credere di poter diventare come loro, oppure che i modelli da prendere ad esempio... A scuola di meritocrazia, insomma, visto che c'è quel grotesco ministero di istituzione e del merito, no? Visto che la nostra scuola è molto meritocratica, infatti si sta pensando di togliere gli insegnanti di sostegno, di mandare in altre scuole le persone meno fortunate che nascono con disabilità. Tanto i ricchi, meritevoli, il diploma possono anche comprarselo. Certo. Ce lo dimentichiamo. Continuiamo nei fatti ad ammettere che alcuni si sentono più umani di altri, come se fossero nati con maggiori diritti. Non può essere autentico un sentimento di intima unione con gli altri esseri della natura se nello stesso tempo nel cuore non c'è tenerezza, compassione e preoccupazione per gli altri esseri umani. Cioè tenerezza, compassione e senso di responsabilità nei confronti di tutti gli altri esseri viventi su questo pianeta, in particolare ovviamente per i nostri affini, coloro che abitano la nostra stessa condizione di Homo sapiens. È il punto di partenza, non il punto di arrivo, che poi ci deve portare a una riarmonizzazione con tutte le creature e con il creato. È evidente l'incoerenza di chi lotta contro il traffico di animali a rischio di estinzione, ma rimane del tutto indifferente davanti alla tratta di persone, si disinteressa dei poveri o è determinato a distruggere un altro essere umano che non gli è gradito. Ciò mette a rischio il senso della lotta per l'ambiente. Tutto è collegato, per questo si richiede una preoccupazione per l'ambiente unita al sincero amore per gli esseri umani e un costante impegno riguardo i problemi della società. Nel nostro banco di prova della nostra disponibilità, la tenerezza, la compassione e l'attenzione nei confronti del prossimo è la nostra stessa condizione umana, a partire dalla quale poi ci predisponiamo a essere testimoni di ecologia radicale profonda e integrale. Questo richiamo alle giuste cause contro l'estinzione di una singola specie non deve però significare che perdiamo di vista la nostra condizione umana. Le due cose vanno armonizzate, invece molto spesso ci si fa protagonisti di lotte giuste, ripeto, sacrosante, nei confronti del rischio di estinzione di specie, ma contemporaneamente diventiamo purtroppo indifferenti nei confronti della nostra stessa specie, perché in qualche maniera forse pensiamo che sia superiore agli altri, quindi non sia anche lei a rischio di estinzione. Siamo avanti così con la devastazione ambientale, certamente è a rischio di estinzione, ma questo rischio passa attraverso purtroppo il diffondersi dell'ingiustizia sociale e di questo noi abbiamo una precisa responsabilità culturale e politica. D'altra parte, quando il cuore è veramente aperto a una comunione universale, niente e nessuno è escluso da tale fraternità. Di conseguenza, è vero anche che l'indifferenza o la crudeltà verso le altre creature di questo mondo finiscono sempre per trasferirsi in qualche modo al trattamento che riserviamo agli altri esseri umani. Il cuore è uno solo e la stessa miseria che porta a maltrattare un animale non tarda a manifestarsi nella relazione con le altre persone. Cioè, il seme della violenza che è anche nell'essere umano, anzi, forse intenzionalmente lo è solo nell'essere umano, si manifesta sia nei confronti delle altre creature e della natura. Anche deforestare è un atto di violenza che poi si traduce in una propensione a sfruttare gli altri esseri della nostra stessa specie e gli ambienti nei quali queste persone vivono. Ogni maltrattamento verso qualsiasi creatura è contrario alla dignità umana. Non possiamo considerarci persone che amano veramente se escludiamo dei nostri interessi una parte della realtà. Pace, giustizia e salvaguardia del creato sono tre questioni del tutto connesse, che non si potranno separare in modo da essere trattate singolarmente, appena di ricadere nuovamente nel riduzionismo. Tutto è in relazione e tutti noi esseri umani siamo uniti come fratelli e sorelle in un meraviglioso pellegrinaggio, legati dall'amore che Dio ha per ciascuna delle sue creature e che ci unisce anche tra noi, con tenor affetto, al fratello sole, alla sorella luna, al fratello fiume e alla madre terra. E' la conclusione questo del parato, poetica in qualche modo, ma allo stesso tempo un richiamo forte, appunto alla pace, alla giustizia e alla salvaguardia del creato. Tre elementi inscindibili, assolutamente inscindibili. Non si può parlare di pace dei popoli senza avere in mente la salvaguardia dell'ambiente, non si può parlare di cura dell'ambiente, di preoccupazione per il futuro dell'umanità senza interesse per i diritti dell'uomo. Non ci si può far carico di una battaglia alla volta. Perfetto, con questa armonizzazione vi auguriamo un buon proseguimento di settimana. Buongiorno a tutte e a tutte. Buongiorno a tutti.